Le acque cristalline di Lampedusa tornano all'originario splendore grazie ad un'iniziativa congiunta che porta la firma di Cobat, il Consorzio Nazionale Batterie Esauste e Capitaneria di Porto. Dai fondali del molo della Madonnina, ma anche in mare aperto, è entrata nel vivo la bonifica delle batterie al piombo esauste abbandonate dai barconi approdati nell'isola nei mesi dell'emergenza sbarchi, rifiuti pericolosi, pronti ad essere riciclati e che ora non potranno più compromettere l'ecosistema marino facendo correre grossi rischi anche a chi vive il mare. Cobat è stato coprotagonista insieme alla Capitaneria di Porto per quanto riguarda questa giornata l'intervento straordinario di recupero delle batterie sia in ambito portuale, l'utenza portuale e i cittadini che dal fondo del mare le recuperate a seguito di una supervisione del fondale e quindi un'operazione che testimonia l'interesse alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia delle persone di conseguenza di questo pezzo di territorio che è eccezionale ed merita tutta l'attenzione del caso. Un intervento delicato che ha rimosso dai fondali della zona portuale batterie, rifiuti pericolosi? Assolutamente sì, dei rifiuti molto pericolosi in quanto il loro contenuto di acido sorforico e piombo in particolare sono dei contaminanti dalle proprietà aggressive eccezionali che possono condizionare la vita della fauna e della flora marina in particolare attraverso fenomeni di bioaccumulo eccetera. Quindi la testimonianza che Cobat insieme alle Capitanerie ha riuscito a concludere un'operazione così importante in questo territorio che al pari degli altri per noi ha la stessa valenza non esistono fette di territorio di serie B ma esiste una distribuzione capillare di questo servizio che vogliamo rimanga tale anche perché è uno dei requisiti che noi sistemi collettivi dovremmo sempre portare avanti. In prima linea Cobat e Guardia Costiera, Corpo della Marina Militare, un'alleanza strategica in un progetto che parla di salvaguardia dell'ambiente e tutela della collettività. Ormai l'isola ha ripreso a respirare, è stato risolto il problema impegnativo dello smistamento di questi sprofughi presso i centri di accoglienza ma la questione ambientale in massima parte risolta aveva anche questo tassello da affrontare, quello delle batterie, dei barconi che erano rimaste immerse nell'ambito del porto. Quindi abbiamo pensato di organizzare una giornata dedicata alla bonifica delle acque del porto. Avete scelto Cobat come partner? Abbiamo scelto Cobat perché ci assicurava oltre che la propria disponibilità, la professionalità che ormai è stata ampiamente confermata sul campo. Per noi questo intervento è una sorta di rilancio anche dell'isola, quindi sì come Guardia Costiera noi effettuiamo comunque delle operazioni di routine, quindi pulizia del porto eccetera, ma questa giornata fondamentale è per i Lampedusani che vivendo in questo periodo in una situazione un pochettino particolare. Diamo appunto questo rilancio anche a loro e dando un po' di speranza a un turismo che ad oggi ancora manca. Qual è la pericolosità delle batterie al piombo e cosa rappresenta per lei l'operazione di oggi? Allora, le batterie al piombo è proprio questo elemento che è l'elemento più insidioso perché viene rilasciato nel tempo ed entra nel ciclo dell'ambiente marino, quindi coinvolgendo tutta la catena alimentare e arrivando alla fine in eventualità anche all'uomo che poi consuma il prodotto ittico al termine della catena alimentare. Quindi l'iniziativa è un'iniziativa importante sia dal punto di vista simbolico ma anche da un punto di vista sostanziale perché recuperare un numero così importante di batterie, ne parliamo di circa un centinaio, significa disinnescare delle vere e proprie bombe biologiche, mi permetta di usare questo termine, e di prevenire e di evitare un inquinamento che poi alla fine può coinvolgere tutti noi e non soltanto rimanere limitato o vincolato all'ambiente marino. La Guardia Costiera tutto l'inverno prepara già dalle scuole, anche partendo dai bambini degli elementari, delle medie e anche dei primi anni delle superiori, per conoscere il mare ed educarli civilmente al mare, a come stare sulla spiaggia ma anche in acqua per evitare problemi di sicurezza, come confrontarsi anche a supporto delle famiglie, anche dei genitori che magari non sono orientati ad educarli. Quindi interveniamo già da prima dell'estate per cercare di sensibilizzarli al mare e quindi a come riuscire ad evitare pericoli in mare e quindi l'intervento della Guardia Costiera. Una tecnica collaudata, quella messa in atto dagli esperti del nucleo subacquei della Guardia Costiera, che hanno recuperato dai fondali di Lampedusa le batterie al piombo, rifiuto pericoloso, pronto a inquinare le invitanti acque di una delle più suggestive e incantevoli località turistiche italiane. Noi praticamente già da qualche giorno stiamo effettuando la bonifica qui del porto di Lampedusa in collaborazione con i diving del posto. Abbiamo diviso il porto in inquadranti, quindi ogni società, assieme alla nostra supervisione, ha contribuito giusto alla bonifica delle batterie. Logicamente facendo tutto quanto con la massima sicurezza, perché qui il più grande problema è il transito delle imbarcazioni da riporto, visto la stagione. Detto questo abbiamo riunito praticamente le batterie in tre punti ben specifici, quindi per oggi era soltanto il discorso del recupero delle batterie per evitare che comunque queste possano continuare ad inquinare i nostri fondali. Le batterie al piombo sono state recuperate dal personale dell'azienda Palermitana Brugnano, raccoglitore incaricato da Cobat. Gli accumulatori sono stati quindi trasportati negli impianti di riciclo. Decisivo questo recupero che parla di tutela e salvaguardia del territorio. Certo che è decisivo, così noi salviamo l'ecologia del mare. Noi lavoriamo con Cobat da più di 15 anni, è una buona collaborazione. Quali garanzie vi dà essere associati a questo consorzio? Ma è principalmente il lavoro, con loro è ben organizzato, più controllato, è diciamo una buona associazione. Per quanto riguarda la giornata di oggi, quante le batterie al piombo raccolte dalle acque del porto? Sì, stimate sono un 17 quintali, diciamo sulle due tonnellate. Un'operazione accolta con entusiasmo e gratitudine sia dai turisti sia dagli isolani, pronti a immergersi nelle acque di Lampedusa in completa sicurezza e senza paure. Se tolgono la sporcizia dal mare, naturalmente è chiaro che dà sollievo. Avere un porto pulito senza spendere soldi, penso che sia sicuramente una cosa bella per noi. Un recupero di queste batterie che fanno male, giusto? Cosa bellissima nel senso che inclinano l'acqua, uno pure lo fa male quando si fanno pure i bagni, no? Almeno i pesci si bruciano gli occhi e se ne scappano perché nel porto si produce molto pesci perché il porto è sempre ricco di mangiare, diciamo. È una cosa bellissima, come non è? È chiara questa cosa. Signale positivo, anzi se lo fanno giustamente ancora migliora l'ambiente, il mare. Le acque qui sono già pulite, da oggi lo sono un po' di più. Certo, certo. Cobat, che è il consorzio che si occupa del recupero di batterie esauste e la Capitaneria di Porto, hanno deciso di organizzare questo recupero proprio per dare un segnale importante di tutela e di salvaguardia dell'ambiente. Sì, comunque la Cobat c'è sempre stata, si impegna ad andare a raccogliere dal fondo del mare, è importantissimo comunque. Questo è. Presenti per dare sostegno all'iniziativa Cobat Guardia Costiera, esponenti delle associazioni Marevivo e Legambiente. Questa è un'iniziativa a cui Marevivo e Cobat non potevano assolutamente mancare. Abbiamo dato il nostro contributo, grazie soprattutto alla Guardia Costiera che ha predisposto tutto il lavoro e noi con i nostri subacquei che in questo momento sono al lavoro stiamo dando il nostro piccolo contributo per il recupero di queste batterie. Oltre all'importanza in sé, quella di avere fatto un'importante opera di disinquinamento, noi ci aspettiamo che rappresenti l'inizio di una nuova storia, nel senso che vorremmo e chiederemo con forza che venga organizzata la raccolta e lo smaltimento di questi rifiuti pericolosissimi e che venga messa a sistema questa partita dei rifiuti pericolosi che a Lampedusa in questo momento versa nella più totale illegalità. Cobat taglia così un nuovo prestigioso traguardo e conferma con i fatti la sua mission che vede una squadra di professionisti lavorare con entusiasmo e dedizione per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute dei cittadini. Cobat recupera batterie attraverso le sue aziende, non solo nei fondali di questa zona ma abbiamo visto proprio qui a Lampedusa che ci sono tanti punti anche sulla terraferma. Sì, ce ne sono molti distribuiti su tutto il territorio italiano, parliamo di isole ecologiche, comunali, di gestori ambientali in giro per tutto il paese, punti di raccolta fruibili dal cittadino che può quindi liberarsi di questo rifiuto ingombrante, scomodo e pericoloso, tengo a sottolinearlo, facendo riferimento a questi punti che noi allestiamo sul territorio e dai quali poi vengono prelevate da aziende specializzate e portate negli stoccaggi al fine di avviarle a riciclo e quindi recuperare integralmente la materia di cui sono composte. Lampedusa nell'occhio del ciclone per l'emergenza ai migrati clandestini, da oggi però grazie a Cobat e alla Guardia Costiera c'è un'emergenza in meno, il porto è pulito. Beh sì, diciamo che le due cose sono abbastanza distinte e sicuramente la percezione che sia vivendo quest'isola, poi mi sento di dirlo, è tutt'altro quella di emergenza degli immigrati, si vive una realtà ambientale meravigliosa, un mare incredibile e il fatto che ci siano questi rifiuti dispersi rappresenta sicuramente un difetto dal quale intenzione e obbligo liberarsi per ricreare e ridare a questo territorio la giusta dimensione di grande valenza ambientale. Grazie a tutti.